E solo un genoano poteva organizzare il convegno in concomitanza con Sampdoria Juve, quindi ci sarà metà della sala. E' vero, assolutamente sì. Ma guarda, ieri sera ho portato Rinaldi a cena e nel tavolo a fianco c'era Cassano e in quello un po' più là Mancini, quindi ho pagato Dazio lo stesso. Quindi avrete parlato di geopolitica sicuramente. Tra l'altro la Juve sta vincendo 2-0. Non ci interessa, non mi interessa. Scusatemi ma vi ho ascoltato, prima ero in macchina, sono atterrato a Fiumicino, ero su un raccordo anulare, però la qualità del collegamento era pessima. Mi sono collegato senza video con l'audio dei vostri interventi, mi sono preso appunti per non essere banale, anche se tante cose giuste le ho sentite. Partiamo dall'urgenza politica. Siccome in maniera assolutamente incredibile, lontana dalla realtà, a guerra ha cominciato il tema economico del Parlamento italiano degli ultimi dieci giorni è stata la revisione degli estimi catastali, i cui effetti forse si vedranno dal 2026 in poi, Io chiedo, umilmente ma con urgenza e con forza, che l'unico tema di cui si debba occupare il Governo e il Parlamento italiano, fatta salva qualsiasi iniziativa atta a porre fine a questa guerra, perché la pace non ha prezzo e ne vale sempre la pena, ma l'unico tema economico su cui seriamente il Governo e il Parlamento dovrebbero impegnarsi H24, ma nei prossimi giorni, non nelle prossime settimane, è un urgente intervento finanziario a favore di famiglie e imprese per bloccare l'emergenza del caro energia. Non è possibile parlare di Catastro, non è possibile parlare di MEF, non è possibile parlare di altri temi che non sono l'attualità, perché forse qualcuno non se ne è accorto, ma lunedì ci sarà gente che non va a lavorare perché non riesce a mettere il carburante necessario nel taxi, nel camion, nel furgone, ci sono famiglie che stanno spegnendo il riscaldamento la sera o lo accendono più tardi la mattina, spiegando ai loro figli che così si faceva negli anni 70, ci sono negozi che non riescono ad accendere le luci, ci sono sindaci che non faranno quadrare i bilanci, perché molto semplicemente io ricordo che siete a Genova, siamo a Genova, io sono a Roma stamattina, ero a Milano, però degli 8 mila comuni italiani, 5 mila hanno meno di 5 mila abitanti, quindi il problema non è far quadrare il bilancio del comune di Genova, e io ringrazio Dio che abbiamo scelto Bucci come sindaco di Genova e conto che i genovesi riscelgano Bucci ancora fra qualche mese perché ha dato un'impronta nuova a questa straordinaria città, però 5 mila sindaci hanno 3 o 4 mila abitanti, quindi per loro un caro energia, un caro gas, un caro luce, un caro gasolio di alcune decine di migliaia di euro fa saltare il banco, quindi il presidente Draghi giustamente ha incontro a livello internazionale perché l'urgenza in questo momento è fermare le bombe, fermare i missili, e da italiano mi dispiace che probabilmente solo in Italia ci sia ancora gente che riesce a fare polemica becera da salotto o da cortile anche a fronte di una cosa grande e tragica come la guerra, e io preferisco esserci in prima linea per cercare di dare una mano piuttosto che commentare dal salotto di casa mia quello che fanno gli altri. Troppo comodo commentare e criticare senza tirarsi sulle maniche, però il tema di cui state, di cui stiamo parlando, io ricordo, sentivo Torlizzi che diceva che quantificammo in 50 miliardi nella fase prebellica la necessità per le imprese, io ricordo che a dicembre quando parlavamo di energia, quando andrai in una fabbrica bresciana tra Natale e Capodanno a chiedere un forte intervento del governo perché ci sarebbe stato un 2022 pesantissimo sul fronte energia, andate a prendervi la segna stampa e era tutto un fiorire, soprattutto da sinistra, di i soliti esagerati, Salvini la spara grossa, la solita Lega. Ecco, sono passati due mesi e mezzo e c'è un conflitto bellico in corso che nessuno avrebbe preventivato, però, ahimè, quello che non si è fatto a dicembre bisogna farlo adesso. È vero che il governo con due o tre interventi ha tirato fuori 10-12 miliardi come intervento temporaneo o estemporaneo, però non basta. Qua sentivo che parlavate anche di PNRR, va rivisto da cima a fondo, ormai è un documento archeologico, va aggiornato, va rinnovato. Parlare di transizione ecologica, fino a due mesi fa, se qualcuno osava alzare il ditino dicendo che mettere fuori legge i motori a diesel era un suicidio e avrebbe avvantaggiato solo la potenza cinese che produrre batterie elettriche bruciava il carbone, eravamo dei bestemmiatori. Ecco, spero che sia archiviata questa fase folle di comunismo, non so che tipo di crasi fare tra ambientalismo da salotto e comunismo radical chic, adesso qualcuno se ne è accorto. La transizione energetica, lo dice la parola stessa, è una transizione, va accompagnata, va accompagnata, va studiata, va elaborata. Adesso si torna a parlare di centrali a carbone, altro che di tutti in giro con l'auto elettrica. Quindi cosa fare? Cosa deve fare la politica? Perché io penso che in sala non ci siano solo politici, ma penso che ci siano, e spero che ci siano imprenditori, artigiani, dirigenti, liberi professionisti, cittadini, genovesi incuriositi e spaventati. Spaventati. Io stamattina sono andato con mia figlia in un centro commerciale a comprare due tutte per casa, avendo finito i compiti che avevamo fatto, e la gente mi fermava spaventata. Perché quando devi fare il pieno di benzina che ti costa il 40% in più, io so che ci sono da lunedì le marinerie che si fermano. Perché andare per mare, a Civitanova, a Bagnara, non solo a Spezia, con un costo carburante che non verrà mai ripagato dal pesce che porti a casa. Fare l'autotrasportatore o la gente di commercio di questi tempi. Io sto ascoltando, e Torlizzi lo sa, ogni tanto messaggiamo con lui, io spesso mi sveglio con i messaggini di Torlizzi. Non so se sia un bene o un male questo, magari altri cominciano le loro giornate in maniera diversa. Però va bene, non penso che sia un reato, anche se probabilmente se qualche giudice mi sta ascoltando apre un fascicolo anche sullo strano legame fra Salvini e Torlizzi. Però va bene, me ne faccio carico, mi dispiace per lui. Il problema è la pasta. Il pane sta arrivando a 4 euro al chilo, perché ovviamente è l'aumento del prezzo delle materie prime. L'Ucraina e la Russia producono ed esportano grano, mais, cereali, carne. Il problema è la carne. Il problema è la frutta e la verdura. Quindi la richiesta che la Lega fa da forza responsabile, noi abbiamo sostenuto alcune iniziative del governo Draghi in questo anno di cui non sempre siamo stati convinti. Noi siamo ancora teoricamente in stato d'emergenza Covid, mentre il resto del mondo prende atto di quello che accade. E quindi fortunatamente, grazie al sacrificio, al grande cuore, al rispetto degli italiani, la pandemia non scompare perché ci convivremo a lungo, però è tenuta sotto controllo. Adesso c'è un'altra emergenza che è quella bellica, ma che è quella economica, sociale. C'è alle porte un'emergenza sociale incredibile. Poi avremo tempo nel prossimo convegno per parlare dei torti, delle ragioni, dell'espansione, del ruolo della Nato, della Turchia, della mediazione cinese, del ruolo di India e Pakistan, della Cina che controlla ormai due terzi di continente africano perché le materie prime sono lì. Ma questa è un'altra storia, ne parleremo fra un mese. Adesso è urgente tirare fuori soldi tanti, maledetti e subito per aiutare famiglie e imprese che altrimenti non passano marzo. Perché io sento a livelli di governo, a livello di Ministero di Economia e Finanza se è vero c'è qualche problema, però è momentaneo e ce ne occuperemo ad aprile, magari nel DEF, senza un intervento ad hoc perché poi sono soldi a debito e chissà cosa dicono a Bruxelles. Ecco, io mi auguro che visto il Covid e vista la situazione bellica non si straparli più di patto di stabilità, di numerini astrusi, di austerity e di regole di bilancio per i prossimi dieci anni, non per i prossimi dieci mesi. Qua c'è i paesi frugali, ma io vorrei vederli in faccia, chi sono questi paesi frugali, parlare di patto di stabilità, di riduzione del rapporto debito-PIL, deficit-PIL, di 3%. Ragazzi, qua ci sono famiglie che devono dare da mangiare ai loro figli e lavoratori che vogliono portare a casa uno stipendio a fine mese. Se al Ministero dell'Economia e se al Governo c'è qualcuno che dice non è il momento di mettere tanti soldi in tasca a famiglie e imprese adesso, io penso che sia anche più utile cinicamente per il Governo perché i soldi che non metti a bilancio adesso per aiutare famiglie e imprese li metti raddoppiati fra qualche mese per redditi di cittadinanza e assegni di disoccupazione. Io non voglio un Paese che dopo il Covid e dopo la guerra si fondi sull'assistenza, sulla beneficenza e sui redditi di cittadinanza. Io voglio un Paese che produce, che possa essere in condizioni di produrre e quindi tutte le follie sulle auto diesel, fuori legge, sull'obbligo, i caminetti. Noi abbiamo delle norme che sotto una certa altitudine ti prevedono delle multe, si accende il caminetto. Ragazzi, siamo in tempi di guerra, siamo usciti dai tempi della pandemia, stiamo entrando, ahimè, in tempi di guerra, non è il momento di entrare in analisi geopolitiche. È chiaro che qua c'è un aggressore e c'è un aggredito. C'è qualcuno che lancia i missili e c'è qualcuno che dai missili si difende. e quindi occorre cercare di fare di tutto per fermare questa follia perché con 5.000 testate nucleari controllate da mosche evidentemente non si può agire con superficialità. Però e torno e mi taccio e poi torno senza video e solo con l'audio ad ascoltare contributi che mi interessano ringraziando chi ha organizzato per un sabato pomeriggio di marzo e chi ha tolto un sabato pomeriggio di marzo alla famiglia al lavoro agli amici al riposo o al calcio per riempire questa sala perché mi risulta che erano arrivate una marea di prenotazioni che non avete potuto soddisfare perché c'è voglia di capire di programmare il futuro la Lega è forza di governo adesso in una coalizione così un po' originale però per il covid prima e per la guerra adesso scappare dalle responsabilità non mi sembrava assolutamente opportuno e quindi ci siamo ci rimbocchiamo le maniche portiamo avanti le nostre le nostre battaglie noi crediamo in un paese fondato sul merito sullo sviluppo sull'industria sui trasporti sulla logistica sui porti se non avessimo insistito per il modello Genova adesso probabilmente il ponte non sarebbe ancora lì dov'è quindi transizione ecologica va bene transizione ambientale va bene però occorre oggi anzi ieri reinserire l'Italia nel circuito virtuoso della ricerca sul nucleare quando io sento la parola nucleare applicata a ragionamenti di guerra inorridisco ma penso che sia impensabile che nei prossimi 50 anni l'Italia sia l'unico dei paesi del G20 che non riscalda le sue scuole i suoi ospedali i suoi comuni e le sue fabbriche anche con il nucleare quando la Finlandia sta per accendere il più grande reattore di terza generazione pulito e sicuro fra i laghi e gli abeti quindi basta con l'ipocrisia non è più tempo né di ipocrisie né di ignoranza né di ideologie van bene le rinnovabili van bene il fotovoltaico per il mio gusto la pala eolica in alcuni contesti del nostro splendido paesaggio è quanto di più brutto si possa si possa vedere occorre diversificare occorre tornare ad avere buoni rapporti con tutti quando il ministro Cingolani che io stimo che io stimo perché è uno dei rari casi di ministro che non pensa a un futuro politico non pensa in base a pregiudizi o a ideologie ma ragiona in maniera tecnica però quando il ministro Cingolani dice entro pochi mesi saremo indipendenti dal gas russo temo che abbia fatto i conti con con un'agenda sbagliata quindi io spero che il conflitto si fermi innanzitutto perché li ho visti sul confine quei bimbi che di una vita hanno uno zainetto che erano a sei chilometri dal confine e dei loro cinque, sei, sette otto anni di vita quando i nostri figli e le nostre figlie hanno la cameretta con gli armadi con i giochi con l'abbigliamento invernale l'abbigliamento estivo quei bimbi hanno i loro anni di vita riassunti in uno zainetto e quindi per rispetto a quei bimbi e a quelle mamme tutti devono fare tutto il possibile per fermare questo conflitto e poi i danni economici e sociali oltre che quelli morali ovviamente legati ai morti ai feriti alle ripercussioni che ci saranno per tanti anni noi abbiamo il dovere e il potere di prevenirli quindi io mi aspetto che già questa settimana il governo varia un decreto urgente per aiutare famiglie e imprese che non ce la fanno più ma non sto parlando solo dei pensionati a 500 euro al mese per cui ovviamente anche i 30 euro di luce fanno la differenza ma io sto parlando anche e soprattutto della cosiddetta classe media di una volta di lui che porta a casa 1500-2000 euro al mese di lei che magari ha un'occupazione precaria con uno o due figli che vorrebbero vivere non sopravvivere quindi io faccio parte di un governo e mi aspetto che questo governo non nelle prossime settimane questa settimana metta sul tavolo tutti i miliardi necessari non per risolvere perché temo che ormai siamo arrivati a 100 miliardi fra luce gas e benzina solo per le imprese e tolte le famiglie nessuno pretende di dire non siamo al monopoli allora noi chiediamo a Draghi mille mila miliardi no però le decine di miliardi necessarie per affrontare la primavera per non fermare il sistema produttivo per permettere alla gente di mangiare bere produrre e riscaldare le proprie case e le proprie famiglie questo governo ha il dovere di arli fuori questa settimana e ovviamente di preparare tutto quello che verrà i rigassificatori il raddoppio del gas che arriva tramite TAP lo stoccaggio la revisione prezzi la ricerca nucleare la sburocratizzazione per le rinnovabili ma ci sono alcune sovrintendenze che eccepiscono non per i pannelli solari sul Colosseo ma per i pannelli solari sui tetti delle scuole o dei condomini in periferia ecco se alcune sovrintendenze sono un ufficio complicazioni cose semplici e andiamo a cancellarle queste sovrintendenze se per tutelare un patrimonio paesaggistico e culturale lo fanno crollare per tutelare la villa la fanno crollare quella villa ecco che covid e guerra ci insegnano che bisogna fare presto e bene sono stato anche troppo lungo vi ringrazio vi ringrazio e io ce la metto tutta più criticano anche in maniera totalmente cinica e volgare più vi danno la forza e l'energia per rimanere al tema di fare quello che è nel mio piccolo umanamente possibile per garantire al nostro paese non solo di rimanere il grande paese che è ma di tornare a essere il grande paese che era buon lavoro buona serata e mai mollare grazie mille a Matteo Salvini senatore e segretario della Lega e siccome si è parlato di PNRR abbiamo in sala uno dei massimi esperti che ha seguito quello che all'origine era il Next Generation in